I tre consiglieri di opposizione in comune a Monterchi del movimento Viva Monterchi Viva sono impegnati per una raccolta firme per sensibilizzare l'opinione pubblica ma soprattutto l'amministrazione comunale sulla necessità di intervenire per quanto riguarda un pericolo costante legato alla viabilità. Monterchi piuttosto che Pocaia, le ville sono attraversate da una strada provinciale molto trafficata quella che conduce a città di Castello e quindi il problema esiste con Massimo Bruschi che è il capogruppo. Chiediamo essenzialmente che vengano destinati dei fondi per proteggere gli attraversamenti pedonali perché recentemente abbiamo avuto episodi anche di investimento anche di bambini e minori. Sono questioni che abbiamo sollevato più volte in Consiglio Comunale senza però fortuna e quindi abbiamo deciso di passare al metodo della democrazia diretta e partecipativa coinvolgendo anche direttamente i cittadini un'adeguata illuminazione con semafori, lampeggiamenti eventualmente restringimenti di carreggiate e o semafori nei punti più pericolosi e vogliamo che siano installati anche a Monterchi. Qual è la risposta infine degli abitanti di Monterchi a questa vostra raccolta firme? Molto buona direi perché le persone capiscono che non è un'iniziativa che ha una qualche finalità diciamo politica o di parte ma è un'iniziativa di puro buonsenso, molto pragmatica quindi partecipano tutti con molto favore diciamo.